Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono un appassionato di moto. Oggi ti voglio parlare di Benelli Tornado 3 1130 del 2006. Ed è proprio con l'utilizzo del motore della TNT di cui vi ho parlato ieri che viene presentata nel 2006 la Tornado 3 1130 che resterà in produzione fino al 2008. La moto ha una sua storia perché era stata disegnata in precedenza precisamente nel 1997 riprendendo il nome della mitica 650 bicilindrica degli anni 70. Aveva debuttato in una versione limitata di 150 esemplari numerati. A questa seguirà poi la Tornado 3 900 leggermente depotenziata e dotata di componentistica meno pregiata. Mentre nel 2003 si entra a catalogo la Tornado 3 900 RS per poi appunto utilizzare nel 2006 il motore della TNT. Quindi vediamo la moto, eccola qui nell'immagine, molto bella, carenata, quindi una moto, come dire, di prestigio proprio per la presenza della carenatura e di un'altra caratteristica tecnica di cui vi parlo dopo. Quindi partiamo dal motore che è un tricilindrico con una cilindrata di 1131 cm3 raffreddato a liquido, 4 valvole per cilindro, la distribuzione è bialbero, la potenza massima è di 161 CV a 10.500 Giro al minuto. La coppia massima è di 124 Nm, 8.500 Giro al minuto. Il telaio è scomponibile, all'anteriore abbiamo un traliccio in tubi d'acciaio, mentre nella parte posteriore il telaietto è una fusione in lega di alluminio. Come sospensioni abbiamo all'anteriore una forcella Marzocchi e steli rovesciati da 50 mm, la sella è alta 810 mm da terra e invece la sospensione posteriore è formata da un monomotizzatore plurilegorabile. Poi al freno anteriore è un doppio disco da 320 mm, mentre al posteriore il disco singolo è da 240 mm. Una caratteristica particolare della Tornado è che il radiatore è posizionato sotto la sella del pilota. L'aria viene aspirata dalle feritoie sul frontale per essere poi portata al radiatore attraverso due condotti. Dopo essere passata attraverso il radiatore, l'aria viene espulsa da due ventole posizionate sotto il codore, visibili nella parte posteriore, quindi molto scenografiche. Le ruote poi sono lega leggera di 17 pollici e il serbatoio contiene 19 litri di benzina, peso secco di 199 kg. Il prezzo all'epoca era di 14.900 euro, quindi una moto di un certo fascino che mantiene inalterato il suo fascino nel tempo, molto interessante per queste sue caratteristiche tecniche. Se ti è piaciuto quindi metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno ed è gratis. Ciao e buona serata.